A seguito dell'avviso emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania di allerta meteo, valido sull'intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità, il livello di allerta emanato era di colore arancione per tutta la Campania. Smottamenti, infiltrazioni, frane e mareggiate. È questo quello che sta accadendo da sabato e a risentirne soprattutto la viabilità in molte zone già compromesse. Il territorio comunale di Sapri, che è stato colpito da una forte mareggiata di particolare violenza ed intensità, per il 22 e il 23 novembre ha ordinato la chiusura del traffico veicolare della SS18 sul Lungomare Italia. Sul Lungomare Italia, infatti, è stata segnalata ed accertata una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, derivante dalla presenza di acqua e materiale litoide. sulla sede stradale. Si è quindi accertata la necessità di provvedere alla chiusura dei tratti di strada interessati per consentire successivamente la pulizia degli stessi al fine di eliminare ogni potenziale pericolo per il transito veicolare e pedonale. Le forti mareggiate hanno provocato dei seri danni anche alla strada che collega Marina di Camerota a Palinuro, l'arteria che costeggia la cala del Cefalo e la spiaggia del Mingardo. Il maltempo ha intaccato la carreggiata, arrecando un deterioramento della sede viaria. Scoperti anche alcuni cavi elettrici. Sul posto, in queste ore, ad intervenire la protezione civile e la polizia locale. Per quanto riguarda l'entroterra cilentano, i cittadini continuano a segnalare disagi per la viabilità. A Stio, sulla strada che collega il piccolo comune cilentano a Vallo della Lucania, è caduto un albero che ha rallentato e reso difficile il transito per diversi minuti, chiusa anche la SP317 che attraversa Altavilla Silentina. A Felitto, invece, in località Casale, i temporali delle ultime ore hanno dato origine a diversi allagamenti in alcuni terreni. A Scario, invece, si sono registrati momenti di paura per un cavo dell'alta tensione spezzato che è caduto nel giardino di un'abitazione in località Gualtieri. Infine, a Casalvelino c'è stata l'esondazione del fiume Alento che ha allagato strade e campi. Numerosi interventi dei vigili del fuoco in tutta la campagna, particolarmente monitorate Agropoli, dove la Capitaneria di Porto ha disposto la chiusura del molo di sopraflutto, e Castellabate, dove il comune ha allestito un punto di accoglienza nella palestra della scuola Guercio. Ma ieri, a far tremare, sono state anche le forti folate di vento che hanno arrecato nuovi danni alla città di Agropoli. Il palazzetto dello sport, Peppino Impastato, è stato infatti scoperchiato. Distrutta la tensostruttura, già parzialmente danneggiata dall'azione dei vandali. Nei giorni scorsi, inoltre, il palazzetto era già stato invaso dall'acqua che lo aveva reso impraticabile. Ieri sera, a Sala Consilina, in località San Giovanni, ben cinque famiglie sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco perché rimaste bloccate in casa. Nel dettaglio, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina sono intervenuti con l'ausilio anche dei soccorritori fluviali dal comando vigili del fuoco di Potenza, in quanto il più vicino per dare una risposta rapida alle emergenze in atto. A creare disagi è stato il fiume Tanagro, con il livello dell'acqua salito ora dopo ora, tanto da mettere a rischio le abitazioni adiacente agli argini. Le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste sul posto tutta la notte per monitorare il livello del fiume. Fortunatamente non ci sono state altre problematiche. Ad Agropoli, invece, è crollato il muro del ruscello Cuba, affluente del fiume Testene. Tempestivo anche in questo caso l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Agropoli. Il crollo ha provocato lo smottamento sotto le fondazioni di un'abitazione civile, poi immediatamente oggetto di ordinanza del sindaco. Fango e detriti hanno ostruito il normale deflusso dell'acqua, ragion per cui i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per bonificare l'aria e ripristinare le condizioni di sicurezza.